11 anni fa nel 2013 facevo una roba molto divertente sul canale che si chiamava sacco della posta che a riguardarmi porca puttana sono in ferie ragazzi è così allora benvenuti a questo sacco della posta vediamo di rispondere a un po' di domande che ci sono arrivate in cui praticamente mi è facile no no prendimi perché la canon non guardare le piantine fotocamera di merda è facile lasciami qua sotto nei commenti le domande che hai per me e io risponderò in un video in cui facciamo una filatona sceglierò un po' a caso un po' con un random le domande a cui rispondere e risponderò le tue domande facile fare così una roba mi avevo voglia di replicare questa follia che facevo appunto 11 anni fa tra l'altro cazzo con le cos notevole cosa facevo 11 anni fa cazzo il batteri minchia quello non lo uso più forse è questo quell'originale 12 anni fa minchia guarda lo studio com'era orca vacca bello cazzo la wharfedale queste mi mancano un po' le vendute che stronzo che sono stato questa è la kg cazzo un macbook bianco notevole che ho fatto la cagata di cazzo questa giacca ce l'ho ancora mi va ancora anzi secondo me la porto meglio adesso che personaggio e quindi niente facile lasciami qua sotto le tue domande e io risponderò al prossimo video facile ad esempio abbiamo la domanda di por porfiriolo cascio ciao francesco fa i video su come mettere allo stesso tempo due basi con tempi differenti e anche rispetta alla base penso di aver capito prendiamo due canzoni e le mettiamo a tempo come faccio di solito meglio come faccio quando faccio tipo i megamix in radio quelle robe lì vado a cercare una battuta ok del brano quindi vado a cercare un punto dove ho un colpo di cassa che è la cosa più facile e conto quattro un due tre quattro un e questa sarà una mia battuta e mi taglio praticamente fuori una battuta del brano fin qua ci siamo andiamo a prendere il secondo brano coloriamolo taglio tre quattro conto quattro taglio sul kick ok due tre quattro un due tre quattro perfetto le metto assieme e poi le tiro ok le stretcio quindi cosa faccio una volta che è così faccio in modo che durino uguale queste due battute uso il tasto alt e trascino praticamente il file vedete che l'icona diventa una manina in questo caso avrò messo a tempo i due brani in modo abbastanza diciamo provvisorio dopodiché l'ascolto per un po' verifico che non sia troppo di essere allineato ad esempio qui posso controllare che siano effettivamente ben allineate lo sono ancora qui forse questo inizia a diventare un filo in ritardo posso fare un altro taglio e andare a prendere con più precisione vedete che questa era un filo più lenta la riaccelero e poi la srotolo poi posso risrotolare tutto il brano ok in modo da riportarlo quanto è lungo srotoliamo i due brani e adesso potrò mixarli molto amabilmente in questo caso poi di solito col tasto F2 controllo che il metodo di shift sia di solito uso l'elastico e il 333 pro è quello che suona meglio vediamo che vanno a tempo questo è il metodo più facile c'è un altro metodo che è quello invece proprio di usare il bpm di sessione quindi se noi andiamo a fare come prima cioè a tagliarci a tagliarci una battuta Reaper se noi selezioniamo praticamente la clip ok io faccio il comando alt r che però non so se è time selection item allora ci sono due azioni da fare quindi una volta che avete tagliato la vostra battuta di canzone c'è questa azione che si chiama time selection set time to selection time ok lui vi fa una selezione della battuta dopodiché c'è un altro comando che è time selection tempo che è questo che è crea misura dal tempo dimmi quanti bpm sono se fate partire questa action vedete che lui mi dice 132 ok virgola 038 perché magari non ho fatto un taglio molto preciso ok quindi adesso io so che è 132 lo metto a 132 vado dentro nel file controllo che non si sia strecciato perché si è sicuramente strecciato lo metto in modalità time e controllo che il mio playback rate sia 1 e adesso potrò attivare la griglia con la griglia una volta che il brano è in griglia ora sarà più facile sarà più facile avere il brano in griglia e fare degli edit possiamo controllare dopo un po' di battute se tiene ok quindi vedete che non siamo proprio allineati allineati non deve essere proprio 132 possiamo fare due o più battute vedete che non siamo molto allineati quindi togliendo la griglia vado a tagliare posso contare quante sono queste sono due battute ok sono 8 colpi di cassa create measure from time selection run da 137 137.9 immagino sia 138 quindi mi rimetto a 138 da qua in poi a 138 questo qui ecco è meglio se lo fate il cambio di bpm all'inizio della sessione ok vedete che mi ha creato questo cambiamento di tempo è meglio fare dare a capo 138 e adesso dovremmo essere correttamente in griglia andiamoci magari dritti se accendiamo il metronomo siamo corretti ok lunghezza due battute lo so non è la roba più comoda cioè rispetto a Ableton Live sicuramente è più macchinoso ma io di solito tirando a mano appunto tagliandomi le battute faccio praticamente tutto senza grossi problemi una domanda di Steve S4 e Francesco innanzitutto grazie ora qualche domanda da un quarantenne principiante che sta impazzendo nel tentativo di trovare il giusto equilibrio di effetti sulla propria voce 1. c'è sempre bisogno di compressore o da dove capisco se è necessario o no? è importante l'ordine dei plugin che si utilizzano? grazie allora domanda numero uno c'è sempre bisogno di un compressore? no allora nell'audio parola sempre non esiste mai cioè l'unica cosa che importa è cosa esce dalle casse ok cioè non ci sono delle procedure obbligatorie in niente nell'audio cioè non perché tutti mettono un passo alto sulla voce bisogna metterlo cioè in quel caso lì serviva ok come riconoscere quando c'è bisogno di più o meno compressione nella voce principalmente il problema è che la voce all'interno di un mix compete ok con il resto della band ok ti faccio un esempio se hai delle chitarre distorte ad esempio chitarre distorta non ha dinamica è un muro di suono che fa se tu hai una voce che deve stare sopra le chitarre distorte se la voce ha tanta dinamica ti perdi dei pezzi ok ti faccio un esempio facciamo un esempio metti in questo caso abbiamo la voce e le chitarre ritmiche vedi come la chitarra non ha dinamica ok è un blastone incredibile mentre la voce ha dei momenti in cui è più forte e meno forte ok qua sarà più forte e qua sarà meno forte capisci che se è così sarà difficile trovare un volume te lo posso far vedere con la somma ottica di Ripper secondo me ok così sto sommando se guardi l'ombra qua sopra la voce e le chitarre vedi che in alcuni punti la voce sbuca fuori ma in altri punti viene mangiata dalla chitarra perché ci va sotto ok quindi se abbasso un po' la chitarra si capisce meglio ora capisci che questa parte qui di parola verrà mangiata dalle chitarre anche questa parte qua e sentirò magari soltanto le vocali e perdo le consonanti ok qui è dove ti serve effettivamente compressione sulla voce cioè che sentendolo tipo il fino a le sei sei esce il fino a è un pochino più dentro ok questo è il mestiere del compressore in un mondo senza compressori tu dovresti andare a dirgli ok fammi un'automazione di volume e tu dovresti andare a tirare su il volume fisicamente vedi delle parole più basse ok in modo da tirarle su di volume e dargli una mano questo qui è esattamente il lavoro che fa un compressore e quindi se io vado ad esempio schiacciare con un airbox questa voce vedi che ora è più costante cioè riesci a sconfiggere il volume della chitarra in modo più uniforme ok questo fa la compressione permette che ogni parte delle parole dei vocali e consonanti del tuo cantante riescono a stare sopra tutto il resto quindi lì appunto dipende se hai una base molto densa non sempre ma con ogni probabilità avrai bisogno di compressione altrimenti altrimenti puoi lasciare più dinamica se hai una base molto più aperta e molto meno meno densa appunto l'altra cosa che ti permette di che ti dà una mano comprimendo la voce è che potrai tenerla a un volume superiore senza che clippi ok perché se hai una voce che ha molta differenza tra momenti forti e momenti ad esempio piano cosa succede? tu la terrai più su di volume proprio col fader per sentirla anche quando canta piano ma quando canta forte andrà in rosso il canale e magari ti gratta il master o fai fatica poi in mastering il compressore ti rende un segnale più uniforme con meno picchi e quindi potrai tenerla a un volume superiore troppo per moda si è sempre tenute le voci molto molto alte in mix perché comunque è importante la canzone c'è il testo quindi comprimere ti aiuta a tenere una media del segnale della voce più alta e quindi essere tutto più intelligibile si capiscono le parole è utile la seconda parte domanda è importante l'ordine dei plug-in che si utilizzano sì perché cambia come reagiscono gli strumenti ossia facciamo un esempio su questa voce un equalizzatore e un compressore se io equalizzo la voce prima di entrare nel compressore cambierà come il compressore si comporta perché cambia il segnale in ingresso ok capisci che se invece faccio il contrario il compressore lavorerà su una voce non equalizzata e poi equalizzo ti faccio un esempio se io schiarisco molto ok guarda come come risponde in modo violento alle S del cantante senti che le schiaccia molto ok se inverto questa cosa le S non verranno schiacciate e si sentono molto di più perché le sto alzando di volume dopo la compressione è per questo che l'ordine è importante perché cambia l'andamento di tutte quelle cose che sono dinamiche ovviamente avere due equalizzatori e cambiare l'ordine di due equalizzatori tra di loro non ti farà cambiare niente cioè equalizzare prima A e poi B se inverti l'ordine di due equalizzatori non ti cambia nulla se inverti l'ordine invece di equalizzatore compressore o de-esser compressore a volte il de-esser suona meglio quando è prima del compressore a volte suona meglio quando è dopo il gate si comporta molto diverso se è prima o dopo l'equalizzatore ad esempio se c'è del rumore di fondo in bassa frequenza sarà più difficile settare un gate per chiudere il tuo segnale quando il cantante non sta cantando quindi mettere un gate dopo l'equalizzatore che ha un passo alto aiuta a pulire il segnale avere una threshold più comoda per settare il tuo gate sono tante piccole cose però diciamo che l'ordine è molto importante anch'io non ho mai cagato troppo questa cosa ho scoperto che invece cazzo serviva bisogna starci attenti sapere scoprire grazie per il tuo video che sono una manna ti chiedo una cosa strana per me guardando il web ho notato che alcuni registrano in totale flette e altri invece lo fanno con già dei channel già fatti secondo te quale è la soluzione più idonea grazie per la risposta mi sa che non ti ho risposto ti risponderò adesso ah qui è una roba più di religione che non di audio ti faccio un esempio in questo momento io sto entrando già processato in registrazione con la mia voce è comodo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa cosa il fatto di registrare con un channel già fatto che è con un channel strip già fatto quindi in registrazione passare già da un Q un compressore a volte anche un limiter e registrare già compresso ti fa oddio come si può dire in italiano commit to your action ti fa prendere delle decisioni e ti fa stamparle ti fa firmarle ok quindi ho deciso che questa voce suona bene con questo compressore e questo equalizzatore non è che quindi la registro flat e poi in mix metto quelle Q e quel compressore no la registro già così la stampo così in modo che la mia decisione sia scolpita nella roccia in questo caso nei beat e non possa più tornare indietro e ripensarci diciamo che il grosso della differenza è quella registrare tutto sempre in flat ti dà la possibilità di poter cambiare idea e stravolgere completamente i tuoi suoni è un po' come scattare una foto in rove ok ti permette in post produzione di tirarla di fare un po' i colori che vuoi quello che vuoi un'altra cosa è stampare invece direttamente il rec 709 quindi l'immagine già sviluppata hai fatto una scelta in quel momento che rappresenta la tua emozione di quel momento e l'hai stampata non si può più tornare indietro è la stessa cosa con l'audio molto spesso dipende molto dalla tua personalità se vedi che sei una persona che fa fatica a chiudere i progetti perché continua ad avere ripensamenti continua a tornare indietro dire la voce così non mi piace la rifaccio no riguardo il quadratore riguardo il compressore se vedi che entri in questo loop in cui continui a ritoccare cose non ne vieni mai a una potrebbe essere un'idea passare dall'altra parte della barricata e stampare le tue scelte molto spesso io lo faccio anche in digitale quando non ne ho bisogno come ho fatto prima quando ho stampato il compressore tante volte faccio render track stampo la mia catena e dico ok questa è la mia voce questo è fatto e non la tocco più renderizzata quindi renderizzo la mia channel strip come un audio libero anche risorse dal computer quindi poi tutta la sessione più leggera ma è perché voglio fermare me stesso dal dubitare delle mie scelte ho fatto delle scelte sono secondo me giuste le stampo questa qua è il grosso del flat e channel strip già fatto non c'è più una volta aveva un valore tecnico questa cosa una volta si passava da un channel strip prima di registrare perché registrare un segnale già equalizzato e compresso permetteva di sforzare meno i convertitori della tua scheda audio e avere un suono migliore ecco diciamo così perché lavoravi soltanto nella zona dove suonava bene oramai nel 2024 le schede audio sono talmente belle che puoi entrare al livello che vuoi con la dinamica che vuoi con tutti gli problemi del mondo la tua performance non cambierà più di tanto ma una volta si faceva perché registrare sul nastro è molto più complicato che registrare sul computer e quindi per registrare correttamente in un nastro magari era meglio entrare già un pochino più chiari era meglio comprimere un po' in modo che il nastro non saturasse troppo insomma bisognava aiutare il segnale ad essere registrato ora non serve più ma a molti è rimasta l'abitudine e secondo me anche la buona abitudine di fare delle scelte stamparle sul nastro una volta che sono lì non puoi più toccarlo questo qua è un po' il discorso generale di questi due modi di fare nell'audio insomma questo era un po' l'esempio del sacco della posta quindi se hai delle domande lasciamole nei commenti qui sotto e risponderemo chi? io? plurale maiestati ci stiamo montando la testa no? benissimo piccolo bonus sto facendo praticamente un video per le prossime settimane in cui parlo di una roba un po' strana e so che mi prenderanno per matto su sta roba c'è una cosa di visualizzazione del suono in mix ossia quella capacità che hai praticamente una tecnica in cui senti il suono stoppi chiudi gli occhi immagini come lo vorresti ok? rifai play risenti l'originale e poi lo modifichi con l'equalizzatore con il compressore quello che vuoi per farlo assomigliare è quello che hai in testa e è una roba lo so è un po' particolare ma è deriva praticamente da una tecnica di visualizzazione sonora che usano i musicisti quelli che hanno magari avuto problema di distonia focale o di o problemi muscolari è una roba spagnola che purtroppo un mio amico è dovuto andare da questo docente che ha avuto un problema muscolare alle labbra e ha vinto tipo in scala trombone quindi era proprio un coglione ed è una cosa che effettivamente facevo anni fa sul suo consiglio anche in mix e ammetto che funziona però sto cercando un po' il come si chiama il modo sto cercando un po' il modo di di cagare fuori sta teoria in modo che sia comprensibile e l'unico modo ovviamente è provare però appunto è ascolti il suono stoppi chiudi gli occhi lo immagini lo senti e senti subito cosa c'è di sbagliato perché lo compari con quello che hai in testa però non sono sicuro che tutti riescono a fare questa cosa di immaginarsi i suoni in testa perché un po' io ad esempio non lo sapevo che ci sono diversi gradi di visualizzazione ad esempio se ti dico immagina una mela c'è chi riesce a immaginare una mela super in HD c'è chi immagina una roba sfocata c'è chi l'immagina in bianco o nero e c'è chi vede nero c'è chi proprio non riesce a immaginare nella sua testa una mela io riesco a immaginare la mia è anche abbastanza in alta definizione e quindi non vorrei che poi questa pratica sia ricepita da molti come una troiata perché in realtà loro non riescono a fare questa cosa di visualizzare i suoni però non lo so ci penso magari prima la sperimentiamo un po' con i Patreon se funziona con i Patreon la replichiamo anche qua sul canale vediamo vediamo un po' ok però sì però un po' così ti piace questa è un anamorfico ma in verticale che diventa un 4 terzi è ampissimo figo very wild